Musica Sono Olivia De Vita, titolare della ditta Magnoli Eventi di Udine e la mia azienda si occupa di organizzare eventi che spaziano dagli eventi aziendali, matrimoni, battesimi, comunioni e quant'altro e oggi ho deciso di organizzare per voi questo evento al Castello Canunzio di Cividale del Friuli incentrato sul mondo del wedding. Le aziende che ho selezionato per voi vi presenteranno le migliori offerte, le migliori idee per il vostro giorno del matrimonio, il vostro giorno perfetto. Mi chiamo Clara Zamparo, sono una personal chef, una cake designer e mi occupo dell'organizzazione di grandi eventi di alto livello per matrimoni e feste in casa privata. Collaboro con pasticcerie, quindi creo tutta una serie di sweet table, confettate scenografiche e anche bomboniere commestibili create con confetti e con dolci preparati seguendo un filo conduttore che è quello che viene dato dal matrimonio. Ho brevettato anche una linea di bomboniere commestibili fatte con dei chicchi di riso per i quali ho ideato un brevetto e quindi creo delle confezioni dell'oggettistica di alto livello particolareggiata che ha una marcia in più rispetto all'oggettistica normale e dimostra anche un'originalità nella cura del dettaglio soprattutto. Sono pezzi unici, ognuna è differente dall'altra, viene usato riso col suo colore naturale, la lavorazione è artigianale al 100% poiché i chicchi sono attaccati uno a uno a mano con una colla alimentare, chiaramente il prodotto finito non potrà essere mangiato ma rimane proprio un elemento unico d'arredamento e queste una volta finite vengono poi trattate in atmosfera controllata per evitare poi eventuali fermentazioni o deperimenti del prodotto. Le tipologie di riso sono naturali quindi vengono lavorati circa 15 tipi di riso differenti e vengono creati per abbinamento di colori, inoltre è stata creata quest'altro tipo di sfera in questo caso legata un po' al Natale come pallina ad addobbo per albero con lo scarto di lavorazione del riso, si ha chicchi di riso a mezzo spacco e tre quarti di spacco cioè vuol dire che sono imparzialmente rotti o spezzati a metà. C'è il recupero di questo materiale che normalmente verrebbe usato per prodotti per l'alimentazione degli animali, viene recuperato, trattato e usato in un modo creativo. Siamo la locata Mise en Place, ci occupiamo del noleggio, di attrezzature per quanto riguarda la ristorazione, la banchettistica e gli eventi, disponiamo di linee trasversali che si possono adattare a varie tipologie di eventi, sia per l'interno delle sale che per l'esterno. Abbiamo diverse tipologie di materiali per quanto riguarda anche i matrimoni, disponiamo di diverse tipologie di colori dei tovagliati, di sedie, la posateria può essere in acciaio oppure in argento e anche tutto quello che riguarda la parte degli accessori, quindi candele, candelabri e altri vari componenti, magari per abbellire la tavola. Per quanto riguarda l'arredamento da esterno abbiamo diverse tipologie di arredamenti, abbiamo generalmente i set che sono composti da un divano, due poltroncine e un tavolino e disponiamo sia di materiali in rattan, quindi adatti appunto per l'esterno, in bianco e nero oppure set in vimini. Abbiamo anche tutto l'arredamento luminoso, quindi cubi luminosi, sfere luminosi e bar luminosi, anche eventualmente da comporre in più parti, quindi ottenere una struttura sia necessaria per, in base alla capienza insomma delle persone, del numero delle persone. Noi siamo Atelier Sartè, un laboratorio artigianale, una sartoria che si trova a Udine in via Cusignacco, siamo aperte da due anni, facciamo confezione donna, abiti su misura, disponiamo di tessuti, passamanerie, pizzi, poi facciamo molleggio abiti, uomo-donna, abiti da cerimonia, abiti sposa, cocktail, abiti corti, costumi di carnevale che realizziamo noi e consulenza di stile personalizzata. Vi attendiamo per una proposta completamente gratuita, vi prenderemo le vostre misure, sceglieremo insieme il vostro abito. Sono Martina, di Martina Bomboniere di Udine, vi presento una piccola parte di quello che potete trovare nella nostra attività, nel nostro negozio in Viale Duodo 49. Avrete possibilità di vedere tantissime collezioni nuove per il 2014, in più tanti dolci buonissimi per il vostro Natale, se dovete fare dei principi. La mia azienda offre bomboniere, articoli da regali, tantissimi oggettini per pensilini, per le occasioni più importanti della vostra vita, matrimoni, comunioni, anniversari vari. In più abbiamo cioccolatini, dolci vari e tante le cornie per le vostre feste. Gioielleria Ronzoni, Udine, Via Cavour. Dunque, noi assistiamo, diciamo, le coppie dal fidanzamento in poi, quindi anello di fidanzamento per lei, per lui in genere orologio prestigioso che di solito è il regalo della fidanzata che a volte regala la coppia di gemelli che verranno usati al matrimonio. Proseguiamo poi con le fedi che vanno dalle classiche nei tre colori, con brillantino, senza brillantino, veretta intera con diamanti, più fogge, più marchi, che dire, su ordinazione, su disegno degli sposi. Mi chiamo Elia Ferrandino dello studio Atasota e Max, vi presento un po' il nostro studio che è fatto da sei fotografi. La nostra missione è quella di fare fotografia di reportage e raccontare la giornata del matrimonio, cogliendo un po' gli aspetti più importanti, cogliere le emozioni, momenti salienti, senza tralasciare l'aspetto estetico, storico del matrimonio, perché l'album del matrimonio, che secondo noi è la cosa più importante, senza tempo che rimane negli anni, deve ricordare quella giornata e l'album che vedranno i vostri figli e i figli dei vostri figli è una cosa importante. Noi ci mettiamo tutta la passione nel nostro lavoro e diamo sempre il massimo e le nostre foto parlano da sole. Mi chiamo Ilenia, sono titolare insieme a Clara dell'Agenzia Universi Paralleli, situata a Manzano. La nostra è una realtà relativamente giovane, operiamo a Manzano appunto da circa otto anni, anche se la nostra esperienza nel settore è più che quindicinale. Questo percorso ci ha dato l'opportunità di viaggiare, di conoscere ed è per questo che mettiamo a vostra completa disposizione la nostra professionalità e il nostro sapere per organizzare quello che potrebbe, anzi sarà sicuramente il vostro viaggio. Le mete sono le più disparate, si costruisce su misura in base alle singole esigenze, da quelli che possono essere gli Stati Uniti con l'abbinamento ai Caraibi piuttosto che alle isole Hawaii parlando di parchi nazionali, si va in Polinesia piuttosto che parlando dall'altra parte tutto quello che è l'Oriente con le sue città piuttosto che la Thailandia, un viaggio per ogni esigenza cucito su misura per ogni singola esigenza. Io sono Basso Daniele, titolare della Basso Production, faccio filmati per matrimoni come potete vedere anche qui sul monitor, cerchiamo di fare dei filmati in stile cinematografico, utilizzo delle attrezzature professionali, delle macchine fotografiche principalmente, cerchiamo di far divertire i nostri clienti e la soddisfazione per noi è molto importante, il sorriso soprattutto dei nostri clienti. Sono Angelo da Ligorezia, propice fotografia di Ligorezia, facciamo quasi esclusivamente servizi fotografici per matrimoni e seguiamo gli sposi la giornata completamente dai preparativi della sposa sino al vero taglio della torta, le bomboniere e avanti. Realizziamo alla fine questi album che sono degli album libri dove gli sposi andranno a scegliere tutte quante le foto da inserire, il tipo di impaginazione, il tipo di copertina, di carta e quant'altro e seguendo tutte le direttive degli sposi facciamo l'impaginato e lo consegniamo entro breve tempo. Quali servizi offro per i matrimoni? Il tutto è partito dalla musica, ormai dieci anni fa, quando ho fatto i primi matrimoni parliamo DJ e musica live, quindi un'integrazione completa a 360 gradi sia per quanto riguarda la chiesa, quindi che sia dal coro gospel a cantanti o musicisti comunque, alla band dal singolo duo, band più complessa per i primi momenti, per gli aperitivi, antipasti e poi a seguire la festa con il sottoscritto. Ho integrato illuminazioni architetturali che possono dare un valore aggiunto alla location andando ad arredare proprio con la luce quelle che sono le varie facciate esterne di ville, castelli o dei saloni interni per cene o pranzi che siano, banchetti comunque. Dieci anni di attività, festeggio nel 2014 appunto, un settore nel quale mi sono affermato negli anni e continuo così. Grazie. Noi svolgiamo attività di fuochi artificiali e realizziamo spettacoli pirotecnici per ogni evento, dal battesimo all'azienda, ai matrimoni o per qualsiasi ricorrenza che riguardi le attività paesane, quindi spettacoli pubblici. Abbiamo anche il punto vendita, realizziamo e vendiamo prodotti per il capodanno o comunque per qualsiasi festa privata, quindi ci impegniamo nella realizzazione di spettacoli che vanno al di fuori del classico prodotto commerciale ma cerchiamo prodotti di alta qualità e raffinatezza con varie lavorazioni, non il classico prodotto che si trova nei centri commerciali o nei negozi non specializzati come il nostro. Grazie.